Conf Commercio insieme a Forma, conf che è lente di formazione di Conf Commercio, organizza due corsi per l'utilizzo dei social media, uno base che si terrà a febbraio ed uno avanzato che si terrà nel mese di marzo, aperto sia alle imprese associate che non. Ovviamente per le imprese associate il corso avrà un forte sconto ed è aperto sia agli imprenditori sia ai dipendenti di queste aziende. Il corso è molto importante perché al giorno d'oggi nell'era dei social per un'azienda non comunicare equivale a non esistere. Conf Commercio ha voluto dare seguito alle richieste di imprenditori associati che chiedevano di poter fare un corso del genere per imparare ad utilizzare i loro stessi social oppure i propri dipendenti. Il termine per le iscrizioni è il 31 gennaio. Il corso si terrà sia presso la sede Conf Commercio negli orari pomeridiani dalle 14 alle 18 ma c'è la possibilità anche di seguirlo online. Per qualsiasi informazione potete contattare Conf Commercio 0721 698205 oppure alla mail segreteriachiocciolascompesaro.it